Buongiorno a tutti, dunque mi è arrivato qualche giorno fa un pacchettino che è un regalo da una ragazza che si chiama Chiara spero che il video non dovrò farlo in dieci parti diverse perché sto preparando il pranzo e quindi probabilmente dovrò andarlo a controllare e in più la batteria della fotocamera stranamente è scarica devo comprarne una nuova decisamente comunque eccolo qua allora il bigliettino che è da leggere in privato quindi dopo lo leggerò e ecco qui i pacchettini allora adesso li apriamo insieme a capire, dimmi che vuol dire Harry Potter che bello oh che bellina ha fatto la scritta, il logo di Harry Potter con i pisle, è perfetta cioè è uguale ciao gatto non mi strusciare contro la gamba vabbè non fateci caso se sentite rumori strani è il mio gatto ok andiamo avanti che carine dai uscite tutte allora come pensavo la batteria è morta comunque ora l'ho ricaricata dicevo in quel pacchettino c'era queste, allora cioè sono bellissime sono di plastica dei quadrifogli con delle coccinelle devo trovare un modo per usarle perché sono troppo carine c'è anche questa piccola colomba poi passiamo agli altri pacchettini oh qui c'è la sua creazione di film è carinissima è un omino di marzapane è bellissimo che brava oh che bella questa penna è stupenda guardate com'è pucciosa oh grazie è bellissima c'è anche la tour Eiffel ovviamente non mette a fuoco tanto per cambiare insomma no beh ma sono carinissimi qui c'è un toast kawaii fatto in pisla e sempre in pisla due piccoli cupcake ma sono carinissimi vorrei farvi notare questo non è proprio dico tape perché è fatto in stoffa quindi si chiama non lo so comunque è molto molto carino una gommina a forma di giraffa che carina oh una calamita che si è staccato il pezzo con la calamita vabbè ci attaccherò ce lo riattacco con questo bellissimo gelatino infine l'ultimo pacchettino come è pesante devo sempre usare le forbici perché sennò non ce la posso fare oh che carini ma sono dei gessetti non riesco a tirarlo poi ok ci sono questi gessetti guardate che carini fiorellini che carini sono proprio carini ok ce l'ho fatta ho aperto tutti i pacchettini questi sono tutti i regalini che mi ha mandato Chiara nulla io la ringrazio tantissimo e vi saluto ciao 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 ciao